A fermare la sua corsa ci ha pensato il Duomo di Montagnana. Clamoroso incidente questa mattina nella città murata della bassa padovana. Una Tesla guidata da un 65enne di casale di scodosi si è schiantata contro la chiesa. Il conducente, forse a causa di un leggero malore e di una distrazione, non è riuscito a frenare la corsa dell'auto che è finita addosso all'angolo sinistro della facciata. L'uomo è uscito da solo dall'auto. Fortunatamente nella sua corsa contro il Duomo non ha investito nessuno. Sul posto anche i carabinieri e i vigili del fuoco per verificare anche eventuali danni alla chiesa. Il conducente della Tesla è stato sottoposto da accertamenti clinici per valutare lo stato psicofisico al momento dell'impatto contro il Duomo.